Per quanto riguarda? Non sono mai a tono! Pagato! La fatti cosa riguarda? Ti ho visto un numero che! Se il muro su te è cammino, se ti occupa una fettura romana, sei tu! Pagano su! E' un po' giù! Aaaaaaah! La fatti! Ti ho visto un po' di un'altra cosa! Per quanto riguarda? Per quanto riguarda? Per quanto riguarda? Aaaaaah! Aaaaaah!